Chi oggi andando verso Castiglione della Presolana ha visto le tracce sull'asfalto di un incidente nei pressi del Bivio in località Ombregno può aver sicuramente pensato al peggio. Fortunatamente non si registrano feriti anche se in un incidente c'è stato eppure con un decesso. E' morto infatti un cavallo investito nella notte intorno all'una da una Peugeot. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Clusone per il recupero del veicolo la carrozzeria Scandella. Grazie a tutti.